Quando Martin vedete solo per la città, forse voi penserete dove girando va. Ma solo, senza una meta, solo, ma c'è un perché. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che è bella la casetta in Canada. Ma un giorno per dispetto, Pincopanco l'incendiò, e a piedi, poveretto, senza casa lui restò. Allora che cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che è bella la casetta in Canada. Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che è bella la casetta in Canada. E tante, tante cose lui le fece, ma però, quel tale Pincopanco tutte quante le incendiò. Allora che cosa fece? Voi tutti chiederete, e questa è la sorpresa che in segreto vi dirò. Lui fece un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla. E tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che è bella la casetta in Canada. Dicevano che è bella la casetta in Canada.